NALSCI METEO 외출하기 전에 날씨 예보를 확인해요. Controlliamo le previsioni meteo prima di uscire. MALGUM SOLEGGIATO È una giornata soleggiata, perfetta per giocare all'aperto. BIA PIOGGIA BIA O NUNCORRASO Abbiamo bisogno di un ombrello perché sta piovendo. NUVOLOSO Il cielo è nuvoloso e potrebbe piovere presto. POPFUNG TEMPESTA POPFUNG POPFUNG Il vento sta soffiando le foglie dagli alberi. NUN NUVOLOSO NUN NUVOLOSO 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 La temperatura di oggi è molto caldo. Previsioni. Le previsioni meteo dicono che domani sarà soleggiato. Ombrello. Usan. Usan. Jacka impermeabile. Usan. Usan. Indossa una giacca impermeabile per rimanere asciutto durante una pioggia. Tuono. Uvac. Il tuono fa un rumore forte durante una tempesta. Uvac. Il tuono fa un rumore forte durante una tempesta. U bruci. Uf. La grandina sono piccole palline di ghiaccio durante una tempesta. Uf. La foglia può rendere difficile vedere al mattino. Tornado Un tornado è un vento molto forte e pericoloso. Tornado è un vento molto forte e pericoloso. Tornado è un vento molto forte e pericoloso. Blizzardo Poffungo Un blizzardo porta neve pesante e forti venti. Poffungo Un blizzardo porta neve pesante e forti venti. Con gelamento fa molto freddo fuori, quindi metti i vestiti caldi 외부에서 얼음이 많아 장갑을 입어주세요 la nebbia è come piccole gocce d'acqua nell'aria 안개는 공기 속의 작은 물체입니다 ci alziamo presto per vedere l'alba 일출을 보기 위해 일찍 일어납니다 i colori nel cielo durante il tramonto sono bellissimi San eiguoli nel cielo durante il tramonto sono bellissimi presentato la temperatura del cielo che ha Remo Termometro Ondo계 Un termometro misura la temperatura Ondo계는 온도를 측정합니다. Arco baleno Musica Dopo la pioggia, appare un colorato arcobaleno. Bica 끝나면 무지개가 나타납니다. Calore Il calore rende questo un buon giorno per la piscina. Stagione In inverno è una stagione fredda e nevosa.